Allora, grazie dell'invito, grazie Enzo della parola, sono molto contenta di essere in questo contesto e di avere la possibilità tra l'altro di interloquire con una personalità come quella di Raul Zibeci che leggo costantemente, credo come tanti di voi, proprio anche sul sito di Comune.info. I suoi articoli ci hanno dato delle chiavi di lettura molto importanti anche in questa dimensione della pandemia. Io vi tradurrò per forza in un contesto diverso che è il contesto soprattutto italiano occidentale con le contraddizioni che ha portato con sé e di conseguenza anche il primo degli obiettivi che mi ponevo nel proporvi alcune riflessioni era quello di mettere un po' in discussione il termine cura che mi è carissimo, mettere in discussione un termine carissimo che io insomma sono dieci anni che ci lavoro e non solo io evidentemente ci lavoro a partire da un retroterra che è incredibile e tuttavia l'ho visto un po' stiracchiato in questo periodo da tutte le parti. Pensate soltanto al fatto che tutte le varie direttive, non direttive, decisioni, non decisioni di una politica che è stata, sì, certamente molto poco attenta alla cura e ha evidentemente dentro determinate scelte fatte finito per approfondire delle problematiche. Pensate soltanto alla scuola chiusa, no? E quindi tutto ciò che ha voluto dire da un punto di vista delle diseguaglianze ha chiamato per un certo periodo tutto questo pannello di questioni come cura Italia. E allora lì mi sono detta, beh, però le donne l'hanno interpretato sempre diversamente, cioè ha un potenziale di rottura, di trasformazione, di rivoluzione del mondo, grandissimo il termine cura così come l'abbiamo interpretato noi, come l'hanno interpretato i femminismi, come l'hanno interpretato molte teoriche. E tuttavia erano anche consapevoli dei crinali scivolosi che, diciamo, questo termine portava con sé, no? Se da un lato si parlava della città femmina di Ida Farè che metteva in luce la necessità di una rimodulazione, degli spazi, di tempi, di figure, appunto, nelle città, i bambini, gli anziani, sono figure da rimuovere, evidentemente, che non sono mai centrali nelle politiche sociali, perché non sono centrali dentro le politiche economiche, no? E dunque l'idea di un disegno di un ambiente, no? Che fosse più a misura degli esseri umani, no? Opposto ad un mondo costruito su modelli eteropatriarcali e capitalisti, dall'altro lato però il rifiuto della cura è stato anche determinante per il femminismo e per le donne, quindi questa cosa noi la dobbiamo sempre tenere presente, no? Molte lotte degli anni settanta si sono avute proprio perché si vedesse, Enzo lo accennava prima, no? Come il carico della cura e la sua contemporanea svalutazione non veniva tenuta in nessun conto, nell'agenda politica di movimenti, sindacati. E come ci ha spiegato anni fa Joan Tronto, il lavoro di cura era storicamente svolto dai subordinati, no? Appunto gli schiavi, i servi, le donne e le donne delle classi più povere, no? Perché evidentemente le più benestanti appaltavano il lavoro di cura altrove. Dunque, come evidentemente diceva Enzo nell'introdurre queste mie riflessioni, no? Il tema di classe è fortemente connesso alla questione della cura, no? Perché la maggior parte dei lavori di cura, io sto facendo evidentemente una fotografia di quello che vediamo intorno a noi, continua ad essere svolto dai ranghi inferiori della società. Donne e uomini di colore e donne bianche di ranghi inferiori. E da lì si è parlato anche di catene della cura, no? Un termine che ricorderete bene, no? Donne migranti che evidentemente venivano costrette a lasciare i propri paesi di origine, i propri figli per occuparsi dei figli delle donne più agiate per consentire loro di essere inserite all'interno del mercato del lavoro, no? Questo lo sto dicendo per cercare di disegnare alcuni processi. Non è nell'oggi forse che ci ritroviamo a questo immediato problema. Ce ne siamo, trovati altri che hanno a che vedere con esso, no? Bisogna insomma ricordare che il lavoro inestimabile del prendersi cura genera non solo sentimenti positivi tra le donne, no? E bisogna prestare attenzione a che non si faccia un uso strumentale del concetto di cura, dell'affetto, affetto che per fortuna ci lega gli altri, no? Ma ci arriverò evidentemente, ma il lavoro domestico è potuto diventare un luogo politico perché si è trovato argomentato nell'ambito di un conflitto sull'attitudine femminile presunta naturale, no? Verso la cura, verso chi aveva intorno, no? E la comunità, certamente, ma la comunità, come evidentemente ci stava raccontando Raul Zibeci nel farci tutta una serie di esempi molto interessanti che ci danno delle fotografie e degli spunti, no? Proprio delle posture, anche dei modelli, dei paradigmi che possono essere anche estremamente soggettivi, però questo problema della comunità è un problema di tutte e di tutti, non solo delle donne, quindi, attenzione a declinarle in modo tale che sia il complesso delle strutture, appunto, e non il singolo o soprattutto la singola, no? A dover interpretare la parte della persona carans, cioè del curante, no? Perché altrimenti si generano evidentemente delle perplessità, no? Che mi si sono generate anche a me quando leggevo talune cose e quando vedevo appunto strattonata questa parola un po' da tutte le parti. Queste questioni, guardate, tirano in mezzo le donne, ma, per esempio, mi è venuto da dire, tirano in mezzo anche i lavoratori degli ospedali, gli operatori sociali, i lavoratori dei servizi alla persona, tutte persone curanti e dove l'elemento dell'affetto, no? Del legame con quello che fanno diventa dirimente, no? Diventa dirimente al punto tale che questo lavoro tu lo fai, appunto, dentro una dimensione di obblattività, quasi, no? Quasi dimentico di te, del tempo che ci impieghi, perché di fatto c'è altro, no? C'è altro. Ed evidentemente c'è altro, così come evidentemente si è parlato di eroi, eroi sono state queste figure in moltissimi casi, no? E alla fine invisibili. E, appunto, anche in questo caso, come dicevo, per quanto riguarda le donne si fa leva sulla missione, sull'obblattività, sull'amore. Però, evidentemente, non si può consentire che si faccia del buon cuore o del volontarismo, no? Una strategia politica di governo, no? Per gli stati, appunto, usare le donne o il personale precario delle cooperative dedicate alle professioni sanitarie si è tradotto in un risparmio immenso, no? Quindi, ai fini del profitto, le donne sono state, anche in passato, ma anche in questa drammatica dimensione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo da un anno e mezzo a questa parte, essenziale nelle case, no? Dato un sistema di welfare familiare che fa da sfondo in Italia, questo da sempre, e a me è parso un arretramento preoccupante, no? Da certi punti di vista. Per cui, in prima istanza, ricordiamoci che, insomma, come dicevo, il concetto di cura ha con sé questo potenziale trasformativo, rivoluzionario, divisione di un mondo diverso, però non siamo disposti a riparare ciò che gli altri hanno rotto, no? Noi vogliamo che cambi l'approccio distruttivo e violento, no? E profondamente gerarchico, e maschilista, e diseguale che ci ha portato fin qui. E quindi, come dire, la cura non è, da questo punto di vista, un concetto molle, no? Che fa solo affidamento sul fatto che siamo, appunto, naturalmente portati, e lo siamo, e lo siamo certamente, no? Perché, appunto, a proposito di interdipendenze e di vulnerabilità, la pandemia ci ha posto, finalmente, di fronte alla questione della vulnerabilità e dell'interdipendenza, no? Ci ha posto di fronte ad una politica che non teneva in nessun conto un'etica della cura, così come, insomma, tra passaggi che sono un po' veloci, però ho cercato di disegnare, no? Un'etica della cura è di processi sindemici che colpivano più fortemente coloro che già la società tendeva a mettere ai margini, no? Quindi le donne, gli immigrati, le persone con minore mezzi economici, quelli che, appunto, il lockdown hanno dovuto fare dentro le case, dentro case non comode, piccole, senza, magari, avere la possibilità di avere ricorso a più computer, no? Il lavoro si faceva per qualcuno in smart working, beh, altri hanno dovuto comunque continuare a lavorare ammalandosi dentro il lavoro, no? Però anche la questione dello smart working ha generato delle problematiche, no? Molto evidente, perché magari, appunto, la casa non era sufficientemente grande per consentire a più soggetti, no? Dentro una casa, la casa poi non è l'ambito dove si dovrebbe svolgere un lavoro, insomma. Le problematiche sono tante, anche se poi alcuni si sono trovati anche comodi nel lavorare da casa, ma, insomma, adesso non voglio disperdermi troppo, però, insomma, tanti in una casa, pochi, magari mezzi, e le complicanze del caso. E quindi è chiaro che, pensando alla società della cura, il mio richiamo è a cure ribelli, a comunità ribelli, no? come quelle che ci stava fondamentalmente illustrando Raul Zibeci, capace, appunto, di creare una dimensione comunitaria dove le varie parti della comunità si prendono carico collettivamente di determinati compiti. Un immaginario di lotta molto distante, no? Da quello che può essere associato alla cura, che in alcuni casi rimanda, appunto, ad una passività, no? Di chi riceve cure, alla pazienza e alla dedizione di chi la presta, no? E tutto questo dentro una politica sempre più fondata su processi di selezione ed emarginazioni, su diseguaglianze che, appunto, si sono rese manifeste. Chi non era essenziale per la produzione può essere lasciato indietro. I vaccini non sono affatto per tutti, i bambini stiano senza scuola, chiusi in casa, la loro crescente ignoranza forse li renderà dei lavoratori più docili, mi dico. Pensate anche ai migranti candestini, no? I quali forse si vaccinerebbero volentieri, no? Potendo ottenere contemporaneamente un'assistenza sanitaria pubblica più trasparente di quella di cui godono oggi, no? E dunque va senza dubbio argomentata la necessità collettiva, politica, di un recupero della centralità del concetto di cura fuori dalla logica della produttività e della sovranità che va viceversa smantellata, no? Va messa al suo posto la nozione infinitamente più sensibile di dipendenza come elemento ineliminabile della condizione umana. Martha Nausbaum si è molto occupata della disabilità pensando alla cura, no? E quindi voi pensate anche qua, no? Le persone disabili come vengono considerate dalla macchina del capitale? Sono nulla? Oppure magari vengono piegate a determinate logiche di profitto, no? E quindi è molto importante cercare di declinare in modo differente il concetto di lavoro e di utilità della persona. Il valore d'uso ci richiamava a recuperare Raoul Zibeci. E quindi, mentre nel modello di produzione capitalistico noi vediamo agire anche un progressivo processo di normalizzazione e di deponsenziamento delle differenze. Mentre l'attività umana andrebbe considerata nella sua essenza e sostanza sempre differente e non solo a partire dal punto di vista del capitale e dell'efficienza, no? Di chi è utile e di chi è disutile del abile e del disabile del essenziale e di quello che invece è inessenziale, no? La vita non essenziale a un certo punto mi è venuto da dire perché tutte le attività sociali erano chiuse e invece la produzione andava avanti come un treno i magazzini di Amazon aperti 24 ore al giorno. Insomma, io adesso non voglio farla troppo lunga perché insomma mi piacerebbe anche un po' interloquire con Raoul Zibeci perché abbiamo la possibilità di questo contatto. Però un'altra cosa voglio aggiungere, no? Attenzione a questa eccessiva responsabilizzazione dell'individuo separato da un contesto sociale che ancora una volta lo espone sempre di più alla possibilità di nuove forme di inclusione ed esclusione, no? Senza alcuna forma di mediazione collettiva, no? E quindi credo che vada tenuto in conto, no? La cornice di uno stato sociale, di servizi essenziali che debbono essere universali e di un sostegno finanziario adeguato alle medesime e che evidentemente tutto questo non possa essere messo in discussione e sono convinta che qui lo sappiamo tutti benissimo ma penso anche che questa sia una battaglia da fare da qui in poi, no? Anche consapevoli, no? Di quanto ci è costato anche in termini di vite il taglio appunto al welfare, il taglio ai servizi essenziali il taglio alla sanità ci siamo ritrovati in questa situazione forse, come dire, già predisposti perché questo tipo di modello sussidiario io vivo in Lombardia è stata un po' l'apoteosi di questo tipo di paradigma figuratevi, recuperavo o mi è recapitato tra le mani un testo del collettivo femminista Medea di Torino sul libro bianco di Sacconi di dieci anni fa ebbene, in questo libro si parlava già di un universalismo selettivo dove la famiglia e dunque ancora una volta le donne e il terzo settore sarebbero stati gli attori che venivano richiamati perché portassero avanti la promozione della salute e dei servizi sociosanitari in larga parte in sostituzione dell'intervento pubblico quindi a proposito di sussidiarietà potremmo citare poi anche la riforma Formigoni in Lombardia così da un certo punto di vista se non prestiamo attenzione la cura rischia di diventare un po' l'altra faccia della guerra ho detto a un certo punto provocatoriamente mentre si combatte la guerra al virus le donne stiano a casa ad aiutare a modo loro lo Stato nella battaglia pensate un po' agli immaginari guerreschi che si sono mossi nel corso di questo periodo e pensate a De Luca che faceva delle ironie sulla mammina che voleva la scuola aperta ecco non so quindi questo codice evidentemente ha affiorato nell'emergenza ed è fondamentale che noi ci sia capaci di riconoscersi all'interno di un ecosistema desideroso di risignificare il rapporto col vivente disegnando una società differente e di vederla schiettamente come una condizione questo processo di cura nel senso di requisito di una situazione di un presupposto necessario a un determinato scopo collettivo che ci tira in mezzo tutti senza pretendere di legarla a sentimenti femminili che appunto sono stati culturalmente e storicamente imposti perché appunto la pandemia ha ahimè messo in luce la persistenza di una divisione dei compiti che ancora largamente vede le donne a casa e gli uomini invece sul lavoro le donne in Italia in questo periodo hanno pagato un prezzo altissimo con espulsioni da un lavoro già precario quindi funzionale a sopperire ai vuoti generati dalla chiusura delle scuole e quindi alla necessità di essere nella cura a proposito degli esempi che faceva Raul Zibeci ecco e a proposito del fatto che noi dobbiamo aprirci alla possibilità di pensare con cura ecco io credo che anche anche nei nostri territori anche tra di noi noi abbiamo moltissime esperienze o perlomeno le avevamo adesso non so come stiano dopo la pandemia dopo questi anni di pandemia qualche difficoltà c'è stata ma moltissime esperienze io sono stata due anni fa a questo festival dell'oltre economia presentando le mappature fatte dal progetto Common Fair che si fondava proprio sull'idea di mettere insieme tutte le realtà sociali auto-organizzate legate a bisogni sociali di vari ambiti educazione socialità cultura salute abitare anche lavoro e analizzando la crescita di queste comunità anche all'interno di forme di coalizione di mutualismo autoregolata che abbiamo visto anche agire ancora pure nelle difficoltà durante questi due anni di pandemia e quindi abbiamo visto concretamente abbiamo mappato come si concepisce si dà vita e si cura ciò che appunto è sottoturizzato o manca attivando appunto dei cicli rigenerativi che sono sia degli spazi che delle persone stesse ed evidentemente proprio con la ricerca Common Fair ci siamo ritrovati a doverci confrontare con due problemi che queste realtà mettevano in luce un problema del tempo e un problema dei finanziamenti e qui arrivo all'ultimo punto che voglio consegnarvi che è quello del reddito perché evidentemente oltre alla difesa come dicevo di uno stato sociale che sia degno di questo nome che sia universalistico che sia più attento alle problematiche che si possono scatenare in un mondo che da un momento all'altro ci ha messo di fronte ad un problema così immenso come questa pandemia e alle diseguaglianze cioè calcolate che la metà del mondo noi forse ce ne siamo accorti tanto perché questa volta questo virus ha colpito di più l'occidente non è Ebola che era lontano da noi ma nel frattempo tutto il resto del mondo ai vaccini non ha ricorso fuori dall'occidente e anche questo è un problema che ci deve far pensare evidentemente a delle strutture di sostegno che siano per questo mondo e per altri mondi possibili ma dicevo reddito reddito anche come altro strumento oltre al sostegno evidentemente di un'agenda politica che tenga al centro la questione dell'uelfar anche la questione del reddito reddito di base un reddito di autodeterminazione del vivente sia in termini soggettivi che collettivi in qualche maniera quindi le forme di autoorganizzazione alternativa di autogoverno così come appunto le singole individualità possono trovare in questo strumento del reddito di base che è stato chiamato appunto dalle femministe di non una di meno anche reddito di autodeterminazione un appiglio che consente delle scelte di libertà e quindi anche questa è una politica rivoluzionaria della sostenibilità dove riconoscere innanzitutto le dimensioni plurali del lavoro e forme di distribuzione alternative tutto questo forse ci porta ad immaginare come dice Pascal Molinier un'etica dei subalterni ecco forse è un po' questo liberare il ventunesimo secolo pensando appunto veramente di immaginare un mondo nuovo di ribaltarlo di prenderci insieme cura del mondo e di ritrovare appunto dentro quest'etica dei subalterni di coloro che hanno questo senso della cura e che però può diventare appunto un segnale un indirizzo un vettore verso il quale andare tutti collettivamente grazie mille grazie a tutti grazie a tutti